Prego, Amedeo, accomodati pure con la tua chitarra e intanto, Dominica, ultimamente dove sei stata in giro per il mondo? Perché tu sei sempre... un giorno mi chiama da New York, un altro giorno mi chiama da Tokyo, un altro giorno... È stato pazzo, è stato anno pazzo, veramente, da gennaio fino a luglio non mi sono mai fermata, non avevo quasi un giorno libero, sono stata... si è realizzato il mio sogno, ho cantato il 4 di aprile al Carnegie Hall di New York, a Riedi Mozart, è un'aria proprio nuova di compositore contemporaneo per Giovanni Paolo II, è stata grande emozione, poi sono di nuovo tornata a New York, sono stata in Africa, Sud Africa, teatro all'opera di Pretoria, adesso dobbiamo fare la traviata, faccio il ruolo di Flora, si canta, è importante trasmettere emozioni, fare nella vita quello che si ama davvero. Certo, senza limiti. Sì, grazie. Allora, Domenica, titolo del brano che ci rappresenti oggi? Allora, oggi eseguiremo Habanera della Carmen, molto interessante perché è normalmente scritta da Bizet per l'orchestra, ma da maestro Carocci è stata proprio arrangiata per l'orchestra di chitarre classiche, allora è una cosa molto particolare, direi unica, grazie maestro. Domenica Zamara e Avedeo Carocci. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Amadeo Carocci, pitarra classica, grazie. Dominica Zamara e Avedo Carocci. Grazie. Grazie.